Vellù del Cagliari che è in zona retrocessione nonostante i gol di Gigi Riva. Qual è la ragione che può spiegare questa crisi del Cagliari? Non credo ci siano ragioni che possano spiegare la crisi, noi giochiamo, corriamo come matti, ci diamo da fare, purtroppo o il palo o l'uomo sulla linea o altre circostanze ci impediscono di portare in porto un risultato positivo. Si sostiene che l'età un po' avanzata di molti giocatori verso blu sia la causa principale forse di questo declino del Cagliari? Non è vero niente, non credo che siano queste una delle cause dell'andamento di questo Cagliari di quest'anno, speriamo che da domenica in poi la fortuna comincia aiutare.